Presentato a cura del Rotary Club Nocera nella sala conferenze dell'Holideine di Cava dei Tirreni, l'ultimo lavoro della scrittice, oltre che giornalista e critico letterario Lucia De Cristofaro. Una serata organizzata dal sudarizio notariano che è da sempre impegnato nel sociale, tante infatti le missioni portate avanti nel mondo, come ad esempio quella di debellare la poliomelite, ma anche promuovere la pace e la cultura. Oggi continuiamo anche con opere culturali perché siamo impegnati anche in questo campo con la nostra amica socia Lucia De Cristofaro e in più il nostro obiettivo è anche un altro, quello c'è della polio nel mondo. Noi compriamo vaccini, stiamo cercando di debellare la poliomelite, lo facciamo attraverso le nostre iniziative raccogliendo dei fondi e devolvendola alla nostra fondazione. Oggi la cultura non può far finta di non accorgersi di quelle che sono le problematiche sociali, problematiche sociali che possono riguardare il nostro territorio, ma che riguardano tutti i giovani e tutti noi in tutto il mondo. Il capolavoro è il titolo dell'opera presentata, una finestra sulla contemporaneità, uno spaccato della vita reale impresso sulle pagine di un libro, una storia di giovani, dei loro problemi quotidiani, del loro rapporto con gli adulti, ma anche e soprattutto fra gli stessi giovani. Il libro di Lucia De Cristofo, come peraltro gli altri libri che lei ha pubblicato per il passato, affronta queste tematiche in un modo corretto e stimola la valutazione di certe cose, stimola la riflessione su certe cose, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti da tenere, nei confronti di certe situazioni e di certe persone che giorno dopo giorno abbiamo la necessità di confrontarci con loro. Ho letto tanti libri in vita mia, ma in 48 ore leggere un libro non è una cosa che succede spesso. E quindi il capolavoro mi ha completamente affascinato, mi ha trascinato, mi ha coinvolto, mi ha reso partecipe nel libro, come se io fossi nel libro, come se fossi qualcuno che sta vicino all'attore principale del libro e volesse seguire la vicenda fino alla fine, rapidamente, per capire dove era il problema. E questa è stata la grande forza di Lucia De Cristoforo. Nel libro, in questa vicenda narrata, in cui lo scrittore cerca proprio nelle strade una storia, dove è una storia triste, una storia anche di violenza sulla donna e tutto quello che può venire fuori da una società malata, ma che può in un certo modo ancora riprendersi. Infatti il libro non esclude, non chiude la porta alla speranza in un finale che tutto può cambiare, può cambiare in positivo. Un libro consigliato ai giovani, ma anche a chi ama perdersi nelle pagine di un libro, come sottolineato dalla stessa autrice. Lo consiglio ai giovani, ma lo consiglio a tutti quelli che vogliono porsi delle domande e quindi arrivare a delle proprie verità. A chi ama anche perdersi nelle pagine di un libro per vivere un'avventura. E questa avventura, in questo libro, è sicuramente garantita.